il gol di Pardini a 10.57 1.0 per la rotellistica Pardini Pardini taglia in diagonale carica il rovescio ed è un raddoppio raddoppio di Pardini a 2.37 10.50 e 2.30 se non sbaglio tanto Carriere attenzione tra solo ottimo gol di Carrieri che taglia dentro l'area e accorce le distanze a 1.18 dalla fine del primo tempo e questo c'è stato tutto il fallo decimo fallo potrebbe provare un tiro un tiro diretto e sparare una bomba si hanno warning per adesso Davide Motaran e realizza che è un grandissimo tiro di Davide Motaran con Bellet ma niente da fare si libera ora giocano molto alti raddoppio di marcatura un carriere attenzione ed è rigore possibilità da parte del Pumas di accorciare le distanze e di nuovo Tahiti salva in doppia parata attenzione Pardini entra in area ed è rigore 30 secondi 10 può succedere di tutto ma intanto parata parata tiro fuori porta scarica palla per Carrieri Carrieri entra dentro attenzione bellissimo scatto inserimento fulminio di Carrieri 3 a 2 5 minuti e 12 Carrieri Motaran ha riuscito da palla attenzione 30 secondi alla fine della partita parte grande finta di Pardini rapidissimo grazie a tutti grazie a tutti